Ci sono cavalli che nascono pazzi, mai per il trotto, perché rompono. Sono roba da galoppo, quanto ha galoppato Berti, sembrava imprendibile. Il cavaliere solitario del nostro campionato, per lui il campo sembrava più corto, per lui il tempo sembrava più breve. Lo vedevi partire e sapevi che sarebbe arrivato, prima degli altri, più forte degli altri. Calcio edizione di Ruben Sosa, pallone in mezzo, Nicola Berti ha la meglio su tutti, il gol di Nicola Berti che anticipa il compagno di squadra Beppe Bergomi. Giorca F, poi la palla dentro, in area di rigore arriva il cross per Berti che può controllare, destro e gol di Nicola Berti. Giorca F, poi la palla dentro, in area di Giorgio, l'Inter continua a dominare in contrastata, l'incontro a Nicola Berti contro Bjarca, vota la meglio Berti, conclude in rete, diagonale, perfetto, precisissimo, Nicola Berti. Mi segue il pallone Ruben Sosa, grande possibilità per l'Inter in area di rigore, arriva il pallone al centro per Berti, di testa, è grandissimo gol, 2-1. 0-0 il punteggio mentre attacca l'Inter con Klisman, pallone in mezzo, colpo di testa vincente di Nicola Berti, Inter in vantaggio, 1-0 sul Milan. Falcio d'angolo per l'Inter, prova a staccare Berti, ancora Berti con il destro del gol dell'1-0. Lascoli sulla difensiva, scatta Berti a Stato, sinistra, supera di slancio l'avversario, in area di rigore, Nicola Berti fa tutto da solo. Gran gol inventato proprio da Nicola Berti. L'Inter dei record veleggia verso lo scudetto. Al meazza cade anche il Verona, steso dal destro velenoso di Nicola Berti. Via, sinarea di rigore, tocco per Berti che trova l'incrocio dei pali e il gol dell'1-0. L'Inter di Trapattoni deve ribaltare il 2-0 dell'andata. Il gol di Klisman mantiene accese le speranze. Al 62esmo completa la rimonta la stoccata di Nicola Berti. Ora è Matteus che mette in mezzo il palone spiorato col centiro che termina il gol da parte di Berti. Berti! Match d'andata degli ottavi di Copa UE. Serena ha già portato in vantaggio l'Inter. Chiude la partita l'incontenibile cost-to-cost di Nicola Berti. Anticipo secco, nettissimo di Berti. Contropiedi ancora, Berti! 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 Tiro! E gol! Straordinario gol di Berti! Eccezionale! Berti sul 2-0, venticinquesimo. Rivediamo la sua fantastica galoppata e il suo gol! Grazie a tutti! Buongiorno! Grazie a tutti.